Allarga, Paolo, Alberto, dai, in grossa, Paolo, 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 non la portare, stai che là, oh, non fa una rosa, non hai bravi, stai facendo andare a Cette Mentre, fai bene! Guardate! Vedi tu qui! Qui in mezzo! Voi! Va! Voi! 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 Alta! bravo Alberto bravo Alberto bravo 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 Alberto bravo Alberto vai occhio largo vai l'interno occhio sempre anche di qua bravo 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 vuoi toccare? vuoi toccare? vuoi fare le tre mano e le tre mano è un'altra mano ci vuoi che sta non ti vuoi Grazie. 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 Bravo. Grazie. Vai, Cipo. Dai. Dai, vai, vai. Dai, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Cipo. Dai, vai, Cipo. Dai, non dico nessuno, eh. Grazie. 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 Grazie.